Ancora qualche puntata e poi la classifica ufficiale di andrà in vacanze, scusatemi, io credo proprio che la seguirò con convinzione, però noi andremo molto più in profondità, vorremmo scoprire cose che lui magari non ha mai detto. Vogliamo sapere tutto il suo video, poi se volontariamente o involontariamente questo ce lo faremo raccontare proprio dal soggetto in questione, ha preso spunto dall'Atmos, e vuol dire che sia come sonorità che come produzione è molto più vicino a quest'altro artista, sempre uno strano. Anzi vi dirò di più che il nostro ospite di oggi ha proprio collaborato con J-AX, anzi l'ha tirato in mezzo nel suo primo contentissimo. Come ti dicevo prima, uno dei highlight, io sì. Vedi questa intervista, dichiarazioni, fioce, robe pesanti, visto che adesso già vivo. Ho visto che nel tuo sito si può entrare, questa è la pagina del tuo sito, voglio capire una cosa, quindi spiegata bene. Ah, quindi praticamente, primo ti dico la verità, ho sempre scaricato e scarico dalla grande, quindi è proprio impossibile. E quindi no, in realtà mi interessava premiare, poi guarda io ho avuto tutte queste cose qua, sembra proprio un film, no? Che poi, cioè va tutto così e poi invece alla fine il disco esce prima e... Sì, sì. Senti, nel tuo stream, quindi ciò che va in tv e in radio e ciò che... Se avessi un sense per ogni passaggio su MySpace... Se dici che si potrebbe un po' compensare... Sì, quella... Ma secondo me non c'è più, in realtà mi sembra impossibile. Quindi l'Italia, mi chiamo Marrakesh, che quindi... Più fuori dal centro direzionale dell'Italia. Esatto, quindi un po'... Apertina, figa. E ci guardiamo un pezzetto di Carito Sway e poi ti faccio un paio di domande. Vai. Vostro onore, con tutto il rispetto, passato e presente senza ulteriori interazioni. Un po' del concetto delle boy band, ovvero boy band come quella cosa che è...